Oh, sto registrando, ok In occasione di questa sfida epocale, Team Ruff contro Team Marco, come noterete durante la live, ci sono anche le bet aperte Quindi potete scommettere di volta in volta sul team che pensate possa vincere quella determinata partita Giocheremo con voi, prenderemo dalla chat i sub, faremo delle squadre, penso equilibrate, faremo più di una partita, regole pro league E soprattutto alla fine del match, chi dei due perde, tra me e Marco, quella determinata partita, regala una sub alla chat Mamma da Bucchini, grazie per il follow Mamma da Bucchini Sam, grazie mille per il Prime Ragazzi, siamo a 313 sub Vi ricordo, tra l'altro, in tutto questo, che a 400 sub il mio stupendo pizzetto che ormai cresce indisturbato da mesi Non faccio la barba a zero da mesi Scomparirà Lo rasiamo E poi da lì lo faccio ricrescere, ci vorranno di nuovo mesi per avere Perché io non sono una persona molto barbosa, qui non ce l'ho la barba, guardate Questo è il profilo di Marco, guardate, Marco Pulse Questo qua, dorato Qui invece è il mio profilo, il solito mute Marco argentato, io dorato Marco argentato, io dorato Andate a seguirli entrambi Ok, andiamo così Allora, aspetta, prima di mettere il pronto, portati il tuo team sul tuo TS E io nel frattempo metto un filtro su Marco Ok, consolato, bannato Loro hanno bannato Costa Quindi Clubhouse in difesa Buono, buono In difesa banniamo... Sto pensando Bannano prima loro in difesa, vediamo chi bannano Sono carico, sono carico Guardate Marco come piccolino micchiolino lì sotto Piccolino minchialino grigio Allora, raga, io gioco diverso dal solito Quindi non tricco con Bandit Marco se lo aspetta, quindi gioco con la mia alibi Sotto gara al sotto, principana No, vado, scusate No, vado, scusate Solo tre, sotto... Bravo, guarda Sotto frattempo, rapto Bann è morto Il tempo accade per 10 secondi Ok, guarda, guarda, guarda Sto plantando, sto plantando, ragazzi Sto plantando, sto plantando, ragazzi Sto plantando, 5 secondi Nettamente è più facile in difesa C'è una rotation in bagno Voglio aprire la botola Puoi aprire la botola di... Ho ucciso Marco Porco, cara Porca miseria Arriva qua Bravo, Sharky Attenti alle Glamour Bravo, Sharky Qualcuno può prendere uno scudo nella dotazione? Eh, non ce l'ho Bricciano Non sono riuscito a fare di più Super silenzioso Il nemico ti scoprirà Se rimani in questa zona La tua posizione è stata presa No No Polle Eh Ho provato la playtime Ho provato Ho provato Giocano con capità o comunque Potremmo prendere Wamai al prossimo giro La squadra d'attacco ha trovato una bomba Bricciano Ok, ok No, raga Asce sotto Etermite è dentro Nice try Prendete Wamai Uno mettilo fuori E uno mettilo dentro Vicino alla finestra Cioè uno mettilo qua Su Bing E uno lo metti fuori Da construction E ora lanciano il coso di capità L'hai lanciato uno fuori construction? Tu vuoi mai? Bellissimo No, senza pietà Senza pietà Sharky Senza pietà Sharky Uno è ferito Portatore ferito Morto Oh mio Dio No No Vendiste ancora sus pingas El becapitato Vai Vai ora Simo Buona Buona È morto È morto Bandit Serve un po' di droning Simo Tenne uno qua Parano con un'altra Drono io Drogato Morto Buona la call Ok Catwalk Clear Torno io Eh garage Sì E qualcun'altra su stairs Stava Se volete potete Potete provare Potete provare a portare Secondo me Ah È fatto Fatto Marco Serve droning Non la troviamo Non la troviamo Il messatore online È attivo Sono defuso Se la vede Sofia se ti drono Vuoi distruggere Da sotto Bandit Ok C'è la su scale Sotto uno scudo Raga dobbiamo cambiare Attacco allora Dobbiamo andare Da construction Forza 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 Cambiamo tutti Cambiamo tutti Il problema è che Dovremmo Pia Pulse 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 Te lo posso prendere Morto Luca Rimangono 15 secondi Cazzo Da dove Raga che attacco Di merda Che abbiamo fatto So Grazie mille Per la sub Allora Office Sopra Libero Office Libero Si può entrare Corroggio libero Palastro libero Che già Hanno lanciato Già due c4 Mi sa Si Uno è ferito Morto Morto Tony Morto pulse Morto pulse E palestra Palestra com'era Palestra Ok Dovrebbe essere Un letto sdraiato E ti picca Vai alla porta Simo vai alla porta Dove C'è lo assumo Ok così Bravi Raga non chiuso La porta di office C4 Su scale Bandit No raga Avete il buco Di ban A destra L'attaccante È stato eliminato Ora Scusate Veramente Però Va tranquillo Io ho aperto Canale C'è solo Doc dentro Raga Non avete nessuno sotto Potete andare al bridge Della botola Raga Statemi a sd Se ammazziamo Doc Possiamo plantare Senza problemi Sul canale Dobbiamo avere La lucidità Di capire Qua non possiamo passare Giriamo Vado Buono No raga Ho mai aggirato In catwalk Non ti fa ammazzare Non ti fa ammazzare Al retro Che mo ci lanciano Il c4 Ok non lo pensare Non lo pensare Sta a terra Non lo possono rialzare Su catwalk Uno atterrato Defuso Defuso È solo quello Che defusa Solo quello Che defusa Mamma Giabe L'hai salvata Mi serve una mano Su scale rosse Raga mi serve Una mano Su scale rosse È proprio dentro È proprio nel site No man Let's try Difensori eliminati Missione fallita 10 secondi Ma sharky Mamma shark Io ti amo Porca miseria Io e Marco Le stesse kill Ma sharky OP No sharky non è OP Voi avete avuto distractor Che ha fatto il dio Sceso in terra Mamma che stanchezza Mi trovo in disaccordo Miut tu ero immortale Io ero immortale Voi non mi avete mai colpito Io mi muovo come un'ape Una farfaccia Ero super silenzioso Ero super silenzioso Azaus c'è sempre nelle nostre live Potete rispondere a queste domande per guadagnare punti fama Arrivati a tre punti potete riscattare 5.000 crediti di fama Caroz ha vinto il team Raph Erano bilanciate le squadre in fin dei conti Cioè sharky ha fatto la differenza Però erano bilanciate E tra l'altro Oh simo a noi è a livello 23 Apriamo il chiudere Vabbè ma buco è il secondo account di Vinza Ma buco buco è smurfata Buco è lo smurf Simo no Oh Marco 51% aveva votato per team Raph E 49% per team Marco Oh però abbiamo giocato Abbiamo giocato bene io e te Marco si è buggato Ah no c'è E Marco la regala zanda Matte grazie per la sub Ok vi diamo noi l'ok raga Comunque sono veramente contento che vi piaccia questo format Vorrei riproporlo più spesso Tra l'altro noto con piacere che Abbiamo avuto un sacco di spettatori durante il match Quindi eravate interessati a match e sono contentissimo E addirittura di meno quando stiamo per rifare le squadre Quindi la gente vuole vedere la partita Sono contentissimo Io